1991 il gemellaggio con Cassino, 2018 il gemellaggio con Minturno. Si completa il percorso di una ricostruzione storica? Io direi che non si completa, andiamo avanti nella costruzione di questo percorso storico perché Ortona ha questa sensibilità. Ortona investe sulla memoria da anni e continueremo in questo percorso affinché il patrimonio che ci è stato lasciato da chi ha sacrificato la propria vita per la libertà non vada dimenticato. Questo gemellaggio potrà essere anche l'inizio di una promozione dei rispettivi territori nelle due realtà coinvolte? Certamente, una collaborazione che è già iniziata, tant'è che la comunità di Minturno è stata già presente nelle recenti feste patronali ad Ortona con un gruppo di sbandieratori. Ma è solamente l'inizio e questo patto di gemellaggio nasce proprio in un momento importante in cui per tutto quello che sta accadendo nel mondo, in Europa, perché due piccole comunità si mettano insieme per far sentire la propria voce e per far sì che nessuno dimentichi quello che è successo sulla linea Gustav. Minturno, Caposaldo sul Tirreno, Ortona, Caposaldo dell'Adriatico si uniscono affinché la linea Gustav sia un ricordo per le future generazioni di pace e non solo di guerra. Un invito agli abitanti di Minturno a visitare Ortona. L'ho fatto durante il mio intervento in questo Consiglio Comunale ma credo che ci sia veramente qualcosa che ci unisce perché anche l'accoglienza che abbiamo ricevuto oggi dal sindaco in prima persona, dagli assessori, dal presidente del Consiglio Comunale, da tutti i cittadini che ci hanno guidato, ma veramente qualcosa di inaspettato che forse unisce già le due comunità. L'invito che facciamo noi è quello di poter creare questo rapporto che possa promuovere, che possa fare anche economia, turismo, affinché le due comunità possano crescere collaborando. Il primo appuntamento a cui invitarli? Già fatto, logicamente, il 28 dicembre. Ho invitato ufficialmente tutta la comunità di Minturno con a capo il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale perché questo patto di gemellaggio si inserisce in un programma di quest'anno che è molto importante perché ricorrerà il 75esimo della liberazione della nostra città. Un anniversario che è molto sentito, logicamente, dal popolo canadese. Speriamo, come ci è stato paventato dall'ambasciata canadese, di avere quest'anno anche la presenza del ministro della difesa canadese, oltre che dell'ambasciatrice canadese, nella nostra città, per questa data così importante. Il gemellaggio con Ortona. Com'è nata l'idea? Ma è nata perché noi abbiamo come amministrazione, due anni fa appena ci siamo insediati, abbiamo deciso di istituire la settimana della memoria per ricominciare a parlare delle sofferenze che hanno subito i nostri concittadini durante la seconda guerra mondiale, per cui c'è stata concessa la medaglia d'oro a merito civile. Abbiamo, di fatto, metaforicamente tirato fuori questa medaglia dal cassetto e abbiamo incominciato un percorso di valorizzazione di quell'esperienza all'interno della nostra comunità. Ovviamente, in questo percorso, un passo fondamentale è stato quello di costruire un rapporto con i nostri omologhi sull'Adriatico, quindi con l'altro caposaldo della linea Gustav, e da qui è nata l'idea di fare un gemellaggio con il comune di Ortona. Questa è la genesi di questo gemellaggio che adesso porteremo avanti con una serie di iniziative culturali, sociali, speriamo anche dal punto di vista turistico, partendo dalle scuole, perché questa è un'iniziativa che ricorda il passato, che vuole operare nel presente per seminare nelle coscienze dei nostri ragazzi, delle nuove generazioni, dei semi di collaborazione fra popoli, fra nazioni, per la pace e la solidarietà e quindi per costruire in futuro una popolazione più sensibile a queste tematiche. Cosa accomuna le due realtà? Quello che la storia già purtroppo le ha destinate a dividere, ad accomunare, le sofferenze, le violenze, la povertà, i disagi derivanti dalla guerra, dall'essere da trovarsi su questa linea Gustav dove ci sono state delle cruente battaglie per la liberazione. Quindi la coscienza tra l'altro che altri popoli e altri cittadini di altre nazioni sono venuti a Ortona e a Minturno a morire, giovani di vent'anni dal Canada, dall'America, dall'Inghilterra, dalla Francia, sono venuti a Ortona e a Minturno a morire per dare la libertà alle nostre popolazioni. E questa è una testimonianza ed un valore che noi vogliamo trasmettere alle nostre giovani generazioni affinché ricordino che la libertà e la pace comportano dei sacrifici che sono però fondamentali per un futuro di sviluppo e di prosperità. Un invito agli ortonesi a visitare Minturno. Un invito agli amici di Ortona a visitare Minturno che è una bellissima cittadina sul Martirreno, al confine fra il Lazio e la Campania, che gode di 8 chilometri di costa con una sabbia bellissima, con tutta una serie di monumenti e beni culturali come l'area archeologica di Minturno, il teatro romano, il castello, il centro storico di Minturno Alta, la torre dei Saraceni a Scauri, insomma un paese in cui si vive bene, in cui passare dei giorni in maniera molto serena e se e quando deciderete di venire a Minturno passate in comune perché avremo sempre un'attenzione e una sensibilità maggiore nei vostri confronti. Grazie e buona giornata. Come è stato organizzare questo evento? Eh beh, è un po' di lavoro nelle stanze telefonate, organizzazione, però grande soddisfazione, parte da lontano, un progetto è parte da lontano, è l'inizio di un percorso spero per le due cittadine e non solo, spero che altre amministrazioni lungo la linea Gustav si aggregino. E' un passaggio doveroso a distanza di circa 75 anni da quegli eventi, di ricominciare per le nuove generazioni soprattutto e perché no magari anche per uno sviluppo turistico ed economico, sulle basi di questa storia a comunare le due città. Quanto tempo ci ha lavorato su? Sinceramente qualche mese, qualche mese che ci ho lavorato, penso da inizio anno, da quando ho incontrato Leo Castiglione e anche se il progetto parte da lontano, da molti anni, però quest'anno sono riuscito nell'intento. Quindi la soddisfazione? La soddisfazione è immensa ma sarò ancora più soddisfatto quando inizieremo i veri rapporti dalla comunità. La linea Gustav ha legato due città, Ortona e Minturno. Che cosa ha rappresentato la linea Gustav per Ortona e per Minturno? A distanza di 75 anni ci ritroviamo a parlare della linea Gustav con una visita che porta un gruppo di ortonesi a un gemellaggio, un patto di amicizia con la città di Minturno che erano le due sponde della linea Gustav. Una linea che ha rappresentato un terrificante periodo di mesi e mesi di battaglie durante un inverno durissimo del 1943 seguito poi da primavera e estate fino alla liberazione di Monte Cassino. Qui parliamo di città martoriate, parliamo di Ortona stessa, parliamo di Cassino, di San Pietro infine, di Minturno, spesso dimenticata come sponda della linea Gustav. Parliamo di un territorio disseminato di tanti cimiteri, sia militari che civili. Partendo da Ortona, dove abbiamo un cimitero dedicato ai caduti canadesi, il Moro River War Cemetery. 1.375 ragazzi canadesi che hanno lasciato la vita sul campo di battaglia nei paraggi di Ortona. Parliamo anche di 22.000 tedeschi, giovani tedeschi, sepolti vicino a Venafro. Parliamo del cimitero polacco dietro a Monte Cassino, parliamo del cimitero inglese qui a Minturno. Non dimentichiamo il cimitero americano di Anzio. All'incirca 40.000 giovani vite sacrificate da parte delle forze militari. Chi per una ragione, chi per un'altra. Certo, noi pensiamo a quelli che hanno combattuto per darci la libertà, la democrazia che abbiamo oggi. E' che noi con la linea Gustav, un concetto tedesco, una cosa voluta da Hitler per rallentare l'avanzamento delle truppe aleate, diventa poi una linea di pace dove noi e delle varie città italiane che si trovano disseminate lungo questa linea, possiamo creare una rete di cultura, di storia e di pace. Una cosa importantissima in questo tempo dove il mondo intorno a noi veramente sembra non capire più nulla per quanto riguarda la civiltà e il rispetto del prossimo.